Nella suggestiva tenuta I Tre Daniele, alle pendici del Monte Vesole a Trentinara, si è tenuta una splendida serata musicale con la cantante Carima. Tra vigneti che si affacciano su una veduta mozzafiato, le tantissime persone hanno potuto degustare il vino I Tre Daniele, assaggiare buon cibo e ascoltare ottima musica. Sì, dopo tantissimi grandi artisti, per noi è un onore avere Carima qui. Diciamo che noi quest'estate abbiamo avuto tantissime soddisfazioni, vedere tante persone che vengono a visitare, a degustare il nostro vino nella vigna più alta, che è qui a Vesole del Cilento. È molto importante far conoscere, far toccare con mano la zona di produzione delle nostre uve, per far capire la differenza che abbiamo qui nel Cilento. Sono sempre più emozionato vedere tante persone che vengono addirittura dagli Stati Uniti, questa sera abbiamo anche francesi, abbiamo tanti stranieri che sono qui ad ascoltare la bellissima musica di Carima e a degustare il nostro vino. Noi in pratica organizziamo tantissimi eventi, ma non solo musicali, come anche facciamo trekking, dello yoga. Diciamo che l'attore principale è il vino, però non è un oggetto soltanto di vendita. Sono qua per un concerto in realtà come special guest, perché il concerto è di Igor Cagliazza, dove presenterà il suo disco Blu e io invece successivamente entrerò a presentare il mio disco No Filter nuovo, che è uscito appunto il 14 maggio del 2021. Non sarà ovviamente con la mia formazione ufficiale del disco, però il pianista, quello che ha fatto tutti gli arrangiamenti, è ufficialmente qua con me. È ormai la mia spalla destra da 17 anni e siamo qua in una bellissima location a presentare questo disco e ci divertiremo. Siamo tra amici tra l'altro con il biprafonista, mi conosco da 20 anni e quindi veramente un ritrovo tra amici. Sicuramente abbiamo già assaggiato il fiano e quindi sappiamo già che berriamo benissimo, berriamo in maniera eccezionale e quindi aspettiamo semplicemente che ci sia tutto il pubblico per poter condividere questa bellissima sera in mezzo alla natura che io amo particolarmente e in buona compagnia. Grazie a tutti Grazie a tutti